il cielo umido e grigio gravava sulla vasta pianura scura l'odore dell'autunno un odore triste di terre spoglie e bagnate di foglie cadute di erba morta rendeva più spessa e più pesante l'aria stagnante della sera i contadini lavoravano ancora sparsi per i campi aspettando che il suono dell'angelus li richiamasse alle loro case di cui si scorgevano qua e là i tetti di stoppie attraverso i raminuti degli alberi che riparavano dal vento ai meleti sul ciglio di un sentiero un bambino piccolissimo seduto su un mucchio di stracci giocava con una patata lasciandosela qualche volta cadere in grembo mentre cinque donne e chine con la schiena in aria piantavano steli di colza nel campo vicino con un movimento rapido e continuo lungo tutto il solco di terra appena rivoltata dall'aratro ficcavano una punta di legno per gettare subito dopo nel buco la pianta già un po' appassita che si piegava di lato quindi ricoprivano le radizze e continuavano il loro lavoro un uomo che passava con una frusta in mano e piedi nudi negli zoccoli si fermò accanto al bambino lo prese e lo baciò allora una delle donne si rialzò e andò verso di lui era una ragazza alta e colorita larga di fianchi di petto e di spalle un'alta femmina normanna dai capelli biondastri e dal colorito acceso disse con voce decisa sei qui cesar e allora l'uomo un giovanotto magro dell'espressione triste mormorò e allora allora nulla di nulla sempre lo stesso non vuole non vuole che farai e che ne so vada al parroco ci vado ma c'è adesso certo che ci vado e si guardarono mentre lui teneva sempre il bambino fra le brazza lo baciò ancora e lo posò di nuovo sui panni di quelle donne all'orizzonte fra due case si scorzeva un aratro tirato da un cavallo e spinto da un uomo passavano pian piano la bestia l'aratro e il bifolco sul cielo spento della sera la donna riprese allora che dice tuo padre dice che non vuole il giovane indicò con un gesto il bambino che aveva appena rimesso a terra poi con un'occhiata indicò l'uomo che spingeva l'aratro in lontananza e disse perché è suo il bambino la ragazza scrollò le spalle e disse con collera per dio lo sanno tutti che è di victor e con questo ho sbagliato sono forse la sola e anche mia madre aveva sbagliato e la tua lo stesso prima di sposare tuo padre chi è che non ha sbagliato in paese ho sbagliato con victor che mi prese nel granaio mentre dormivo questo è vero e poi ho sbagliato di nuovo quando non dormivo le avrei certamente sposato se non fosse stato un servitore valgo forse di meno per questo l'uomo disse con semplicità io ti voglio bene così come sei con o senza bambino è solo che mio padre mi fa tante difficoltà vedremo comunque di sistemare la faccenda lei ripetè va a parlare col curato ora ci vado e si avviò col suo passo pesante di contadino mentre la ragazza con le mani sui fianchi tornava a piantare il colza infatti l'uomo che se ne andava così Cesar Hulbrecht figlio del vecchio sordo amable Hulbrecht voleva sposare nonostante l'opposizione di suo padre Célez Levesque che aveva avuto un figlio da Victor Lecoq allora semplice carzone nella fattoria dei genitori di Lai e messo alla porta in seguito all'accaduto d'altra parte nelle campagne le girarchie di casta non esistono e se il servo è economo diventa una volta presa una fattoria pari al suo vecchio padrone Cesar Hulbrecht se ne andava dunque con la frusta sotto il braccio rimuginando la sua idea sollevando uno dopo l'altro i pesanti zoccoli coperti di fango sì voleva sposare Célez Levesque perché era proprio la donna fatta per lui non avrebbe saputo dir perché ma lo sapeva ne era sicuro bastava che la guardasse per esserne convinto per sentirsi tutto strano tutto sconvolto come inebetito dal piacere anzi provava anche piacere a baciare il piccolo il bambino di Victor perché era uscito da lei e guardava senza odio il profilo dell'uomo intento a spingere l'aratro laggiù all'orizzonte ma Mastro Amable non ne voleva sapere di quel matrimonio lui si opponeva con una caparbietà da sordo una caparbietà furiosa Cesar aveva un bel gridargli nell'orecchio in quello che ancora percepiva qualche suono vi cureremo bene babbo vi dico che è una buona ragazza è valida e poi brava a risparmiare il vecchio ripeteva finché vivrò è una cosa che non vedrò e nulla poteva convincerlo nulla poteva piegare il suo rigore a Cesar restava una sola speranza Mastro Amable aveva timore del curato per la paura che gli faceva la morte che sentiva avvicinarsi non che temesse molto il buon Dio né il diavolo né l'inferno né il purgatorio di cui non aveva nessuna idea ma temeva il prete che per lui voleva dire il funerale come uno potrebbe temere il medico per l'orrore delle malattie da otto giorni Celeste conoscendo quella debolezza del vecchio spronava Cesar perché andasse a trovare il curato ma Cesar esitava sempre perché neanche a lui piacevano troppo le sottane nere che volevano dire ai suoi occhi le mani sempre tese per la questua o per il pane benedetto ma aveva ormai deciso e muoveva verso la canonica rimuginando fra sé in che modo avrebbe raccontato il proprio caso la batte raffin un pretino vivace magro e mal rasato aspettava l'ora della cena scaldandosi i piedi al focolare in cucina appena si accorse del contadino chiese volgendo soltanto il capo Cesar che vuoi? vorrei parlarvi signor curato e rimaneva in piedi intimidito tenendo in una mano il berretto e nell'altra la frusta e dunque parla Cesar guardava la serva una vecchia che strisciava i piedi mentre veniva apparecchiando un angolo della tavola vicino alla finestra veramente valbettò si tratta quasi di una confessione allora la batte raffin considerò attentamente il suo postulante vide quella faccia confusa quell'aria imbarazzata quegli occhi esitanti e ordinò marì vattene cinque minuti in camera tua mentre parlo con Cesar la serva lanciò un'occhiata stizzosa e se ne andò brontolando il prete riprese su su ora di il fatto tuo il giovane esitava ancora guardandoci gli zoccoli tormentando il berretto poi all'improvviso si decise ecco vorrei sposare Celeste Levesque ebbene ragazzo mio chi è che te lo impedisce è mio padre che non vuole tuo padre? sì mio padre chi dice tuo padre? dice che lei ha avuto un figlio non è la prima alla quale sia capitato dopo nostra madre Eva un figlio da Victor con Victor Lecoq il garzone di Antimello Asel ah allora non vuole non vuole ma proprio no non più di un ciucco che non vuole andare avanti con rispetto parlando cosa gli dici per convincerlo? gli dico che è una buona figliuola che è brava ed economa e questo non lo convince allora tu vuoi che gli parli io? proprio così l'avete detto e che cose gli devo raccontare io a tuo padre? ma quello che dite alla predica per farvi dare dei soldi nella mente del contadino lo scopo della religione era soltanto quello di far aprire le borse e di svuotare le tasche degli uomini per riempire i forziari del cielo per lui la chiesa era una specie di grossa azienda commerciale della quale i parroci erano gli impiegati impiegati sorgnoni astuti furbi come nessun altro al mondo che facevano gli affari del buon dio al scapito dei contadini sapeva bene che i preti rendevano dei servigi dei gran servigi ai più poveri ai malati ai moribondi che assistevano consolavano aiutavano ma sempre in cambio di monete d'argento di bei soldi lucenti con i quali venivano pagati i sacramenti le messe i consigli e la protezione perdono dei peccati e indulgenze purgatori e paradiso secondo le rendite e la generosità del peccatore la matera fan che conosceva il tipo e non andava mai in collera si mise a ridere ebbene sì gli racconterò le mie storie a tuo padre ma tu ragazzo mio ci verrai anche tu alla predica Ulbrecht tese la mano a prestare giuramento parola di poveraccio se mi fate questo lo prometto bene allora quando vuoi che vada a trovarlo tuo padre più presto sarà e meglio sarà questa sera se potete fra una mezz'ora dunque dopo cena fra mezz'ora inteso a fra poco ragazzo mio e buon rivedersi signor curato e grazie di nulla ragazzo mio e Cesar Ulbrecht si ritornò a casa col cuore alleggerito di un gran peso conducevano in affitto un piccolo podere molto piccolo perché non erano ricchi il suo padre e lui soli con una serva una ragazzina di quindici anni che preparava loro la minestra custodiva le galline andava a mungere le vacche e faceva il burro vivevano stentatamente sebbene Cesar fosse un buon coltivatore ma la terra e il bestiame che possedevano erano appena sufficienti a dar loro l'indispensabile il vecchio non lavorava più triste come tutti i sordi trafitto dai dolori curvo torto se ne andava per i campi appoggiandosi sul suo bastone appoggiandosi sul suo bastone e guardando le bestie e gli uomini con occhio duro e diffidente si sedeva talvolta sulla proda di un fosso e se ne stava lì senza muoversi per ore e ore pensando vagamente alle cose che lo avevano preoccupato durante tutta la vita il prezzo delle uova e delle sementi il sole e la pioggia che rovinano o fanno crescere i raccolti e travagliate dai romatismi le sue vecchie membra bevevano ancora l'umidità del suolo come da settant'anni avevano bevuto l'alito dei muri sulla bassa capanna anch'essa coperta di umida stoppia rientrava al calar del sole mangiava a capotavola nella cucina e appena gli mettevano davanti una scodella di coccio che conteneva la minestra che parevano aver conservato la forma tonda del recipiente e si scaldava le mani d'inverno ed estate per non perdere nulla né un pizzico di calore che viene dal fuoco né una goccia di zuppa in cui sono stati messi lardo e sale né una briciola di pane che viene dal grano poi si arrampicava per una scala e in un granaio dove aveva il suo pagliericcio mentre il figlio si colicava da basso in fondo a una specie di nicchia accanto al camino e la serva si chiudeva in una specie di cantina una tana nera dove un tempo si immagazzinavano le patate Cesar e il padre non parlavano quasi mai ogni tanto soltanto quando si trattava di vendere un raccolto o di comprare un vitello il giovane si consultava col vecchio e facendosi portavoce con le mani gli gridava le sue ragioni negli orecchi e Mastro Amable le approvava o le disapprovava con una voce lenta e cavernosa che pareva gli venisse dal fondo della pancia una sera Cesar avvicinandogli si come se si trattasse dell'acquisto di un cavallo o di una giumenta gli aveva comunicato strillando a pieni polmoni la sua intenzione di sposare Celeste Levesque il padre allora si era arrabbiato perché non certo per moralità la virtù di una ragazza non ha importanza nei campi ma la sua avarizia il suo istinto profondo e feroce di risparmio si era rivoltato all'idea che suo figlio avrebbe dovuto dar da mangiare a un bambino che non l'aveva fatto lui in un attimo aveva pensato a tutte le minestre che il piccolo avrebbe ingoiato prima di potersi rendere utile aveva calcolato tutte le libre di pane i litri di sidro che avrebbe mangiato e bevuto quel moccioso fino all'età di quattordici anni e aveva sentito scatenarsi in lui una collera furiosa contro César che non pensava a tutto questo e aveva risposto con una insolita forza di voce hai forse perduto il cervello allora César si era messo a denumerare le sue ragioni a dir le qualità di Celeste a provare che guadagnava cento volte quello che costerebbe il bambino ma il vecchio aveva i suoi dubbi su questi meriti mentre non vi poteva essere dubbio circa l'esistenza del bambino e rispondeva a botta e risposta senza dare altre spiegazioni non voglio non voglio finché sarò al mondo non si farà e da tre mesi erano a questo punto senza cedere né l'uno né l'altro riprendendo la disputa almeno una volta alla settimana la stessa disputa e con gli stessi argomenti le stesse parole gli stessi gesti e la stessa inutilità era allora che Celeste aveva consigliato a César di andare a chiedere l'aiuto del curato tornato a casa il contadino trovò il padre già a tavola perché la visita al presbiterio gli aveva fatto far tardi cenarono in silenzio faccia a faccia dopo la minestra mangiarono un po' di burro spalmato sul pane bevendo un bicchiere di sidro poi rimasero immobili sulle loro sedie appena illuminati dalla luce della candela che la servetta aveva spostato per lavare i cucchiai asciugare i bicchieri e tagliare in anticipo le croste per la colazione del mattino seguente si udì un colpo contro la porta e si aprì subito e comparve il prete il vecchio aveva alzato su di lui i suoi occhi inquieti pieni di sospetto e intuendo un pericolo si preparava ad arrampicarsi sulla scala quando la batte raffin gli mise una mano sulla spalla e gli urlò nell'orecchio ho da parlarvi mastro amable Cesar profittando del fatto che la porta era rimasta aperta era scomparso non voleva sentire tanta era la sua paura non voleva che la sua speranza si sbriciolasse ad ogni rifiuto ostinato del padre preferiva sapere la verità tutta insieme buona o cattiva che potesse essere il più tardi possibile quella serata era senza la luna e anche senza stelle una di quelle serate nebbiose che sembra grassa di umidità un vago sentore di mele fluttuava nei pressi delle aie perché era l'epoca in cui si raccolgono le più precoci le mele eurible come si dice nel paese del sidro le stalle quando Cesar ne sfiorava i muri alitavano dalle strette finestre il loro caldo odore di viventi animali addormentati sullo strame e udiva a piede le scuderie il pesticcio dei cavalli ancora in piedi e il rumore delle loro macelle che strappavano e frangevano il fieno dalle mangiatoie camminava pensando a Celeste nella sua mente semplice dove le idee non erano niente più che immagini nate direttamente dagli oggetti i pensieri d'amore non si formulavano che mediante l'evocazione di una grande ragazzona rossa ritta in piedi in mezzo a un sentiero incavato una ragazza ridente con le mani sui fianchi così gli era apparsa il giorno in cui cominciò a desiderarla la conosceva fin dall'infanzia ma non aveva mai fatto attenzione a lei come quella mattina avevano scambiato qualche parola poi lui se n'era andato e ora mentre camminava andava ripetendosi Cristo è davvero una bella ragazza peccato che se la sia intesa con Victor ci pensò fino a sera e l'indomani ricominciò a pensarci quando la rivide sentì qualche cosa che lo solleticava in fondo alla gola come se attraverso la bocca gli avessero cacciato una penna di gallo dentro il petto ed allora ogni volta che si trovava vicino a lei si meravigliava di quel solletico nervoso che sempre ricominciava in tre settimane si decise a sposarla tanto gli piaceva non avrebbe saputo dire da dove venisse quel potere che lei esercitava su di lui ma l'esprimeva con queste parole ne sono posseduto come se portasse in sé il desiderio di quella ragazza tirannico come un potere infernale non si preoccupava molto della sua colpa che importava dopo tutto non la guastava affatto e lui non ce l'aveva con victor lecoq ma se il parroco non fosse riuscito cosa avrebbe fatto non osava pensarci tanto questa inquietudine lo torturava aveva raggiunto il presbiterio e si era seduto accanto al cancelletto di legno per aspettare il ritorno del parroco era lì da un'ora forse quando sentì dei passi sul sentiero e scorse subito nonostante la notte fosse molto buia l'ombra ancora più scura della sottana si alzò in piedi le gambe molli non osando parlare né sapere il prete lo scorse e disse allegramente ragazzo mio è fatta se sarbalbettò è fatta non è possibile sì ragazzo mio ma ce n'è voluta che vecchio mulo quel tuo padre il contadino ripeteva non è possibile ma sì vieni da me domani a mezzogiorno per decidere le pubblicazioni l'uomo aveva afferrato la mano del parroco la stringeva la scuoteva la stritolava balbettando sicuro 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 signor parroco parola ad onestuomo mi vedrete domenica alla predica le nozze furono celebrate verso la metà di dicembre furono semplici perché gli sposi non erano ricchi cesar tutto vestito a nuovo fu pronto fin dalle otto del mattino per andare a prendere la fidanzata e condurla in municipio ma siccome era troppo presto si sedette davanti al tavolo della cucina e attese i parenti e gli amici che dovevano venire a prenderlo da otto giorni nevicava e la terra bruna la terra già fecondata dalle semine autunnali era diventata livida addormentata sotto un gran lenzuolo di ghiaccio faceva freddo nelle capanne di paglia incappucciate di bianco e dentro ai cortili le cupole dei meli sembravano in fiore bianche di cipria come al bel mese del loro schiudersi quel giorno i grossi nembi del nord i nembi grici carichi di quel nevischio erano scomparsi e il cielo azzurro si stendeva sopra la campagna bianca dove il sole che sorgeva gettava i suoi riflessi d'argento cesar guardava davanti a sé oltre la finestra senza pensare a nulla felice si aprì la porta ed entrarono due donne due contadine vestite a festa zia e cugina dello sposo poi tre uomini i cugini poi una sua vicina sedettero e rimasero immobili in silenzio le donne da una parte del focolare gli uomini dall'altra dominati da una subitanea timidezza da quella tristezza imbarazzata che prende le persone riunite per una cerimonia uno dei cugini non tardò a chiedere non è ancora l'ora cesar rispose credo di sì è l'ora muoviamoci su allora muoviamoci concluse l'altro si alzarono e in quel momento cesar preso da un'improvvisa inquietudine salì per la scala del granaio a vedere se suo padre era pronto il vecchio per abitudine sempre mattiniero non si era ancora lo trovò sul suo pagliericcio avvolto nelle coperte gli occhi aperti l'aria cattiva gli urlò nei timpani su padre alzatevi è venuto il momento delle nozze non posso mormorò il sordo con voce dolente ho di certo un'infreddatura che mi ha gelato la schiena non posso muovermi il giovane sbigottito lo guardava indovinando il suo espediente andiamo padre dovete sforzarvi non posso aspettate ora vi aiuto e si chinò verso il vecchio svolse la coperta lo prese fra le braccia e lo sollevò ma mastro amable si mise a gemere che dolore non posso ho la schiena annodata è qualche soffio d'aria che sarà calato da quel maledetto tetto il figlio capì che non sarebbe riuscito a convincerlo e per la prima volta in vita sua furioso contro suo padre gli gridò allora non mangerete perché noi pranzeremo alla locanda di polit così imparerete a fare il muro discesa a precipito la scala poi si avviò seguito da parenti e invitati gli uomini si erano rimboccati i calzoni per non rovinare il risvolto nella neve e le donne avevano tirato su le sottane mettendo in mostra che viglie magre e calze di lana grigia gambe ossute dritte come manici di scopa e tutte camminavano dondolandosi sulle gambe l'una dietro l'altra senza parlare ad agio con prudenza per non perdere la traccia della strada scomparsa sotto la discesa piatta uniforme ininterrotta delle nevi passando accanto ai casolari vedevano due o tre persone che li attendevano per unirsi a loro la processione si allungava sempre di più seguendo le tracce invisibili del sentiero pareva un rosario vivo dai grani neri seppeggiante nella campagna bianca davanti alla porta della fidanzata un gruppo numeroso scalpicciava in attesa dello sposo gli batterono le mani quando comparve e subito dopo Celeste uscì dalla camera con indosso un vestito turchino uno scialletto rosso sulle spalle e in capo una coroncina di fiori d'arancio tutti chiedevano a Cesar dov'è tuo padre? lui rispondeva impacciato non può muoversi per via dei dolori reumatici e i contadini scuotevano il capo con aria incredula e maliziosa ci si mise in cammino alla volta del municipio dietro i promessi sposi una contadina portava in braccio il figlio di Victor come se si fosse trattato di un battesimo e i contadini due a due adesso tenendosi sotto braccio procedevano nella neve con movimenti di scialuppe in mare dopo che il sindaco ebbe uniti i due sposi nella piccola casa municipale il curato li unì a sua volta nella modesta casa del buon Dio benedisse il loro accoppiamento promettendo loro la fecondità poi predicò le virtù matrimoniali le semplici e sane virtù dei campi il lavoro la concordia e la fedeltà mentre il bambino infreddolito piegnucolava dietro la schiena della sposa appena la coppia riapparve sulla soglia della chiesa dei colpi di schioppo esplosero dal fosso del cimitero non si vedevano che le bocche delle canne da cui uscivano rapide fumate poi spuntò una testa che guardava il corteo era Victor Lecoq che celebrava il matrimonio della sua buona amica e ne festeggiava la felicità col gettarle i suoi auguri a colpi di polvere da sparo aveva reclutato per quelle salve di moschetteria alcuni amici cinque o sei bifolchi tutti approvarono il suo contegno il pranzo ebbe luogo nella locanda di Polite Sasheprun nello stanzone dove si pranzava ai giorni di mercato era stato apparecchiato per venti e l'enorme arrosto che girava allo spiedo i volatili che si rosolavano nel proprio sugo la salsiccia sfrigolante sul fuoco vivace e chiaro riempivano tutta la stanza di un forte aroma del fumo dei carboni innaffiati di grasso dell'odore pesante dei cibi paesani si misero a tavola a mezzogiorno la minestra fu immediatamente versata nei piatti i volti incominciavano già ad animarsi le bocche si aprivano per gridare facezie gli occhi ridevano con pieghe maliziose chi si sarebbe divertiti perbacco la porta si aprì e apparve Mastro Amable aveva un'espressione cattiva un viso furioso e si trascinava sui bastoni zemendo ad ogni passo per esprimere la sua sofferenza tutti avevano taciuto vedendolo entrare ma ad un tratto Mastro Malivar un suo vicino uno maccione faceto e buon tempone che conosceva tutte le astuzie della gente si mise a urlare come faceva Cesar facendosi portavoce con le mani ora vecchio volpone devi avere un buon naso per aver sentito da casa tua il profumo della cucina di Polite una risatina enorme sgorgò da tutte le gole Malivar eccitato dal successo continuò per i dolori non c'è niente di meglio di un cataplasma di cotechino ti è in caldo la pancia con un bicchierino di acquavite fina gli uomini gridavano picchiavano i pugni sul tavolo ridevano voltandosi di lato abbassando e risollevando il busto come se stessero mettendo in moto una pompa le donne chiocciavano come galline le sguattere si torcevano in piedi contro le pareti soltanto Mastro Amable non rideva e aspettava senza rispondere nulla che gli facessero posto lo collocarono al centro della tavolata di rimpetto a sua nuora e appena seduto si mise a mangiare era suo figlio che pagava e dopo tutto lui doveva prendere la propria parte ad ogni cucchiaiata di minestra che gli scendeva nello stomaco ad ogni boccone di pane o di carne che le sue gengive maciullavano ad ogni bicchiere di sidro di vino che si lasciava colare in gola credeva di recuperare qualche cosa della propria sostanza riprendere un poco del proprio denaro che tutti quei mangioni stavano divorando salvare insomma una particella del proprio avere e mangiava in silenzio con una ostinazione da avaro che nasconde i suoi soldi con la cupa tenacia che un tempo metteva nelle sue perseveranti fatiche ma ad un tratto scorse a un capo della tavola il figlio di celeste sulle ginocchia di una donna e non lo abbandonò più con gli occhi non tralasciava di mangiare lo sguardo attaccato al piccolo al quale la donna metteva ogni tanto fra le labbra un minuzzolo d'intingolo che lui mordichiava e il vecchio si affliggeva di più per quei pochi bocconi sottchiati da quel piccino che per tutto quanto gli altri ingurgitavano il pranzo durò fino a sera poi ciascuno tornò a casa propria Cesar aiutò suo padre ad alzarsi da tavola su padre è ora di tornare a casa disse e gli mise nelle mani i suoi due bastoni celeste prese in blaccio il suo bambino e se ne andarono a lenti passi nella notte livida illuminata dalla neve il vecchio sordo per tre quarti brillo reso più cattivo dall'ubriachezza si ostinava a non andare avanti anzi si mise più di una volta a sedere con l'idea di far prendere freddo alla nuora senza dire una parola si era messo a piagnucolare e mettendo lunghi e dolorosi gemiti appena giunti a casa si arrampicò immediatamente nel suo granaio mentre Cesar preparava un letto per il bambino accanto alla profonda nicchia dove si sarebbe colicato con la moglie ma siccome gli sposi novelli non si addormentavano subito sentirono a lungo il vecchio agitarsi sul suo pagliericcio e anche parlare a voce alta parecchie volte sia che sognasse sia che si lasciasse sfuggire dalla bocca il suo pensiero senza volere senza riuscire a trattenerlo come sotto l'ossessione di un'idea fissa quando scese dalla scala il mattino seguente vide la nuora che sbrigava le faccende di casa lei gli gridò su padre sbrigatevi ecco una buona zuppa e posò a un capo della tavola la scodella di coccio rotonda e piena di liquido fumante lui sedette senza rispondere prese il recipiente che scottava ci si scaldò le mani come al solito e poiché faceva un gran freddo se lo strinse anche sul petto per cercare di farsi entrare dentro nel suo vecchio corpo irrigidito da tanti inverni un po' di vivificante calore della minestra bollente poi cercò i suoi bastoni e se ne andò in giro per la campagna agghiacciata fino a mezzogiorno fino all'ora di pranzo perché aveva visto installato in una grande cassa di sapone il bambino di celeste che dormiva ancora non si rassegnò continuava a vivere nella capanna ma con l'aria di non farne parte di non interessarsi a nulla di considerare quella gente suo figlio la moglie e il bambino come stranieri a lui sconosciuti ai quali non rivolgeva mai la parola l'inverno lungo e rude volse al termine poi l'inizio della primavera diede via alle sementi i contadini formiche operose passarono le loro giornate nei campi lavorando dall'alba fino a notte sotto il vento gelido e sotto le piogge lungo i solchi di terra bruna che partorivano il pane degli uomini l'anno procedeva bene per i nuovi sposi i raccolti si annunciavano fitti e rigogliosi non si ebbero gelate tardive e i meli in fiore lasciavano cadere nell'erba la loro neve bianca e rosa che prometteva per l'autunno una grandine di frutti Cesar lavorava duro si alzava presto e rientrava tardi per risparmiare la spesa di un garzone qualche volta sua moglie gli diceva ti ammalerai a lungo andare non c'è pericolo rispondeva lui ci ho fatto il callo ma una sera rientrò tanto stanco che si mise a letto senza cenare l'indomani si alzò all'ora solita ma non potei mangiare malgrado il digiuno della sera prima e dovette rincasare a metà pomeriggio per riposarsi ancora durante la notte gli venne da tossire e si rivoltava sul suo pagliericcio febbricitante la fronte che gli bruciava la lingua arida divorato da una sete ardente tuttavia sul far dell'alba andò fino ai suoi campi ma il giorno seguente si dovette chiamare il medico che lo giudicò gravemente ammalato per un attacco di polmonite non lascio più la buia nicchia che gli serviva da giaciglio lo sciudiva tossire anzi mare e agitarsi in fondo a quel buco e per vederlo per somministrargli le medicine applicargli le sanguisughe bisognava accostare una candela all'apertura si vedeva il suo viso scavato coperto dalla barba lunga sotto una fittatrina di ragnatele che pendevano e ondeggiavano smosse dall'aria e le mani del malato parevano morte sulle coperte grigie celeste lo curava con una operosità preoccupata gli faceva bere le medicine gli applicava ai vescicanti andava e veniva per la casa mentre mastro amable rimaneva sul bordo del granaio spiando da lontano la nicchia oscura dove il figlio agonizzava non vi si avvicinava per odio contro la donna facendo il muso arcigno come un cane geloso passarono altri sei giorni poi una mattina quando celeste che adesso dormiva sul pavimento sopra due balle di paglia disfatte andò a vedere se il suo buomo stesse meglio e non ho di più quel soffio rapido uscire dal fondo degli aciglio ehi cesar fece spaventata che mi dici lui non rispose lei tese la mano per toccarlo e incontrò la carne gelida del suo viso gettò un gran grido di donna aterrita cesar era morto a quel grido il vecchio sordo apparve in cima alla scala e vedendo celeste slanciarsi fuori in cerca di aiuto scese presto tastò a sua volta la faccia di suo figlio e comprendendo improvvisamente andò a chiudere la porta dall'interno per impedire alla donna di rientrare e di riprender possesso della casa di lui amable ora che suo figlio non viveva più poi si sedette su una seggiola accanto al morto dei vicini arrivavano chiamavano bussavano lui non li udiva uno ruppe il vetro della finestra e salto dentro altri seguirono la porta venne di nuovo aperta e celeste riapparve versando tutte le sue lacrime le gote gonfie e gli occhi rossi allora il vecchio amable vinto senza dire una parola risali nel suo granaio la sepoltura ebbe luogo il giorno seguente poi dopo la cerimonia suocere e nuora si ritrovarono soli nella cascina col bambino era l'ora consueta della cena lei accese il fuoco preparò la minestra mise i piatti in tavola mentre il vecchio su una seggiola aspettava guardandola senza farsene accorgere quando il pasto fu pronto lei gli gridò su padre bisogna mangiare lui si alzò prese posto a capotavola vuotò la sua scodella masticò il pane spalmato di burro beve i suoi due bicchieri di sidro quindi se ne andò era uno di quei giorni tiepidi di quei giorni benefici in cui la vita fermenta palpita fiorisce su tutta la terra mastro amable percorreva un piccolo sentiero tra i campi guardava il grano e la vena verdeggianti pensando che il suo figliuolo il suo povero ragazzo ora era sottoterra camminava col suo passo stanco strascicando la gamba e zoppicando e poiché era completamente solo nei campi solo sotto il cielo azzurro in mezzo alle messe rigogliose solo con le rondini che vedeva volare sul suo capo senza sentire il loro canto sommesso si mise a piangere continuando a camminare poi si sedette accanto ad uno stagno e restò lì fino a sera a guardare gli uccellini che venivano a bere al calare della notte rincasò ce no e senza dire una parola si arrampicò nel suo granaio e la vita per lui continuò come per il passato nulla era mutato salvo che cesare il suo figliuolo dormiva nel cimitero che cosa poteva più fare il vecchio lavorare non poteva più non sapeva far altro adesso che mangiare le zuppe che gli preparava sua nuora e le mandava giù in silenzio mattina e sera sogguardando rabbiosamente il piccolo che anche lui mangiava lì di rimpetto all'altro capo della tavola poi usciva errava per il paese come un vagabondo andava a nascondersi dietro i pagliai per dormire un'ora o due quasi avesse paura d'essere visto e rientrava all'avvicinarsi della sera ma grosse preoccupazioni cominciarono ad ossessionare la mente di celeste i campi avevano bisogno di un uomo che gli sorvegliasse e li lavorasse occorreva che qualcuno fosse presente sempre nei campi non già un semplice salariato ma un vero coltivatore un padrone pratico del mestiere che prendesse a cuore il podere una donna sola non poteva provvedere alle colture seguire il prezzo delle granaglie dirigere la vendita e le compiere del bestiame allora le idee cominciarono ad entrare in quella sua testa idee semplici pratiche che lei andava ruminando tutte le notti sposarsi prima che fosse trascorso un anno non poteva e intanto correva subito salvaguardare gli interessi urgenti degli interessi immediati un solo uomo poteva trarle dai guai Victor Lecoq il padre del suo bambino forte com'era esperto delle faccende dei campi sarebbe diventato accontentandoci di un po' di denaro per la scarsella un coltivatore eccellente lei lo sapeva avendolo conosciuto quando lavorava dai suoi e dunque una mattina vedendolo passare sulla strada con un carro di concime uscì per parlargli quando la vide Victor fermò i cavalli e la donna gli disse come se l'avesse incontrato il giorno prima buongiorno Victor va tutto bene? lui rispose sempre bene e voi? no per me andrebbe meglio se non fosse che sono sola in casa e questo mi procura dei fastidi per via della terra e parlarono a lungo appoggiate alla ruota del pesante carro l'uomo di tanto in tanto si grattava la fronte sotto il berretto e rifletteva mentre la donna con le gote rosse parlava con vivacità esponendo le proprie ragioni le sue idee i suoi progetti per l'avvenire alla fine Victor mormorò sì si può fare lei gli tese una mano come un contadino che conclude un affare e chiese d'accordo lui le strinse quella mano tesa d'accordo inteso allora per domenica inteso per domenica allora buongiorno Victor buongiorno signor Oldbreck quella domenica era la festa del villaggio la festa autunnale del patrono chiamata in Normandia l'assemblea erano otto giorni che da tutte le strade si vedevano arrivare al passo lento di ronzini grigi o rossigni le vetture straniere in cui alloggiavano le famiglie ambulanti dei frequentatori di fiere di stori di lotterie di tiri a segno di giochi diversi oppure espositori di curiosità che i contadini chiamavano fai vedere le carrette sudice dalle tendine suolazzanti accompagnate da un cane malinconico che cammina a testa bassa fra le ruote si erano fermate una dopo l'altra nella piazza del municipio poi davanti a ciascuna di quelle casette giroveghe era stata alzata una tenda nella quale attraverso i buchi della tela si intravedevano certi oggetti riducenti che sovraccitavano la curiosità e la bramosia dei monelli fin dalle prime ore di quel giorno di festa tutte le baracche si erano aperte mettendo in mostra i loro splendori di vetro e di porcellana e i contadini nell'andare alla messa guardavano già con occhi candidi e soddisfatti quelle modeste botteghe che pure rivedevano ogni anno fin dalle prime ore del pomeriggio ci fu folla sulla piazza i fattori arrivavano da tutti i villaggi vicini sballottati con le loro donne e i bambini nei barrocci a due ruote che oscillavano come bilance tra un cigolio di ferraglie ti si fermava presso amici e i cortili dei poderi erano pieni di strani carrettoni grigi alti stretti storti simili ad animali marini dalle lunghe zampe e ogni famiglia i bambini avanti e gli altri dietro se ne veniva all'assemblea a passi tranquilli col viso sorridente le mani aperte quelle grosse mani arrossate ussute abituate al lavoro che parevano impacciate dal riposo un giocoliere suonava il clarinetto l'organino dei cavalli di legno sgranava nell'aria le sue note lacrimose saltellanti la ruota della lotteria scricchiolava come una stoffa che si strappi e i colpi di carabina eccheggiavano di secondo in secondo e la folla lenta passava ad agio davanti alle baracche come una pasta che coli con gli sbandamenti d'un grezzo di pecore e la goffaggine di vitelloni lasciati liberi le ragazze tenendosi a braccetto in ranghi di sei o di otto vociavano delle canzoni i giovanotti le seguivano scherzando il berretto sull'orecchio e la blusa indurita dall'amido gonfia come un pallone azzurro vi era tutto il paese padroni garzoni e serve persino maestro amable che indossava il suo giaccone antico e verdastro aveva voluto come non mancava di fare tutti gli anni trovarsi all'assemblea guardava guardava le lotterie sostava davanti al tirassegno per giudicare i colpi e soprattutto prendeva interesse per un gioco molto semplice che consisteva nel gettare una grossa palla dentro la bocca spalancata di un pupazzo dipinto su un asse si sentì battere una spalla era maestro amable che gli gridò oh vecchio vi invito a prendere un bicchierino e si sedettero alla tavola di una bettola installata all'aperto bevettero un bicchierino e poi un altro e un altro ancora poi maestro amable ricominciò a girare per la fiera le sue idee si erano fatte confuse sorrideva senza sapere perché sorrideva davanti alla lotteria davanti ai cavalli di legno e soprattutto davanti ai giochi dei fantocci ci restò a lungo a guardare felice quando vedeva un giocatore abbattere il gendarme o il parroco due autorità che temeva istintivamente poi tornò a sedersi alla bettola e beve un bicchiere di sidro per rinfrescarsi era tardi si faceva notte un vicino lo ammonì arriverete a casa quando avranno già manzato compare allora si incamminò verso il podere un'ombra dolce l'ombra tiepida delle serate primaverili scendeva lentamente sulla terra quando fu davanti alla porta di casa gli parve di vedere attraverso la finestra illuminata due persone in casa si fermò molto sorpreso poi entrò e vide victor lecoq seduto a tavola davanti a un piatto pieno di patate che mangiava proprio al posto di suo figlio si sielò bruscamente come se volesse andarsene la notte era buia ora celeste si era alzata e gli gridava venite presto padre ho fatto del buon ragù per festeggiare la fiera allora vedì per inerzia e si sedette guardando ora l'uomo ora la donna ora il bambino poi si mise a mangiare ad agio come tutti i giorni victor lecoq pareva a casa sua parlava di tanto in tanto con celeste prendeva il bambino sulle ginocchia e lo baciava e celeste gli serviva dell'altro cibo gli versava da bere e nel parlar gli sembrava contenta ma Mastro Amable li seguiva con lo sguardo fisso senza udire quello che dicevano quando ebbe finito di cenare e non aveva mangiato nulla tanto si sentiva il cuore turbato si alzò e invece di salire nel suo granaio come tutte le sere aprì la porta sulla corte e uscì per i campi quando se ne fu andato celeste un po' inquieta domandò che farà victor rispose con indifferenza non te ne dar pensiero tornerà quando sarà stanco allora lei sparecchiò lavò i piatti e strofinò la tavola mentre l'uomo svestitosi tranquillamente si infilò nel giaciglio oscuro e profondo dove lei aveva dormito con Cesar la porta della corte si aprì e Mastro Amable ricomparve appena entrato guardò da ogni parte con un fare di vecchio cane che annusa cercava victor le coq non vedendolo prese la candela della tavola e si avvicinò alla nicchia dove suo figlio era morto là in fondo scorse l'uomo allungato sotto le lenzuola e già sonnecchiante allora il vecchio sordo andò via pian piano ripose la candela sulla tavola e uscì di nuovo nella notte celeste aveva finito il suo lavoro aveva messo a dormire suo figlio e fatto ordine aspettava prima di stendersi a sua volta accanto a victor che il suocero fosse di ritorno rimaneva lì seduta su una seggiola le mani inerti lo sguardo vago poiché non rientrava lei mormorò infastidita e di malumore ci farà consumare quattro soldi di candela quel vecchio mangia ufo victor rispose dal fondo della nicchia è più di un'ora che è fuori bisognerebbe andare a vedere se magari si è addormentato sulla panca davanti alla porta la donna disse vado si alzò prese la candela e uscì riparando la luce con la mano per poter vedere nell'oscurità davanti alla porta non vide nulla nulla sulla panca nulla sul mucchio di concime dove il vecchio aveva l'abitudine di sedersi al caldo ma mentre stava per rientrare alzò per caso gli occhi verso il grande melo messo all'entrata del podere e scorse all'improvviso due piedi due piedi umani che penzolavano all'altezza del suo viso lanciò urla terribili victor 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 l'uomo accorse in camicia la donna non riusciva a parlare e voltando la testa per non vedere indicava l'albero con la mano tesa non comprendendo ancora egli prese la candela per vederci meglio e scorse in mezzo al fogliame rischiarato dal basso mastro amable lassù impiccato per il collo mediante una cavezza da scuderia una scala era rimasta appoggiata al tronco del melo victor andò a cercare una roncola salì sull'albero e tagliò la corda ma il vecchio era già freddo e allungava fuori la lingua orribilmente con una smorfia spaventosa